Sono una sessantina nelle marche le soluzioni abitative di emergenza SAE, le casette per i terremotati liberati dai precedenti occupanti e che potranno essere messe a disposizione di famiglie di profughi ucraini. Lo dice a Lanza l'assessore alla ricostruzione Guido Castelli, specificando che le soluzioni abitative di emergenza libere sono soprattutto tra i comuni di Camerino, Visso, Arquata del Tronto e Amandola, e proprio qui una casetta è stata già consegnata a una famiglia ucraina. Sentita la protezione civile nella persona del capo dipartimento Fabrizio Curcio, dopo che alcuni sindaci avevano manifestato la volontà di dare un contributo di accoglienza, spiega l'assessore Castelli, abbiamo inviato una circolare ai comuni che hanno delle SAE vuote. È importante e significativo che dalle zone del cratere sismico arrivi questa attenzione a chi oggi sta fuggendo dalla guerra, una solidarietà di ritorno che apre il cuore. Queste le parole dell'assessore Guido Castelli della Regione Marche.